È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Mayer di Firenze. Il bambino di due anni e mezzo inglese, che all'alba di questo lunedì mattina, è caduto da una finestra per oltre sei metri. Il fatto è accaduto in un agriturismo di Montespertoli, in località Montalbino. A quanto pare, il piccolo è uscito dalla camera dei genitori per entrare in quella della sorellina di cinque anni. Qua, la finestra era aperta e il bambino è rimasto incuriosito dalla zanzariera e avvicinandosi sempre di più, è caduto da sei metri e mezzo d'altezza. Sul posto immediatamente sono intervenuti il 118 e l'elisoccorso che ha trasportato il piccolo al Mayer di Firenze nell'impatto con il terreno. Il bambino ha subito vari traumi. Sul posto immediatamente i carabinieri di Montespertoli, a quanto pare, la ricostruzione fatta dai genitori corrisponderebbe a quello che è accaduto se è esporto troppo. Ed è caduto. Un volo terribile che ha sconvolto anche gli altri villeggianti, in quel momento, all'interno di questo borgo, tra le vigne del Chianti Classico. Una caduta accidentale, proprio mentre il babbo e la mamma lo stavano cercando in camera. Sconvolta anche la proprietaria dell'agriturismo, che per prima ha chiamato i soccorsi, intervenuti immediatamente, proprio vicino alla struttura, è atterrato l'elicottero. Di qui la corsa al Mayer e il ricovero.